esatto, ex Ragusa, giocatrice fenomenale ci pensa su un attimo poi Nicolodin, facile rovesciata questa volta come nelle occasioni precedenti la T-Devil da sola il svitamento lì devi tirare da sotto, non la devi ricacciare fuori perché il tiro da tre palleggia, aspetta noi altri compagni e poi si trova da sola Shepard dal comico, segna, non so, in fassina penetrazione invece adesso Reier deve ancora lavorare per riacquistare il vantaggio non premia nessuno se non Santucci che deve attaccare con tre secondi a quel punto però la difesa è tale posizione ma c'è la fisica e va a prendere la palla ancora al ribaltamento di Yasuma a tutto campo per offrire